Come mai il Movimento 5 Stelle ha scelto di astenersi sulla mozione per il ripristino del Fondo Sociale? Ma certo, noi siamo per il ripristino del Fondo Sociale. Il PD ci ha chiesto di unificare la mozione loro con la nostra. Noi ci siamo dimostrati favorevoli, purché i 30 milioni che erano nella scorsa legislatura come fondo fossero garantiti come minimo nella nuova mozione. Il PD nella persona di Ceriscioli e Busilacchie hanno negato questa nostra richiesta per cui le due mozioni sono rimaste separate e noi ci siamo astenuti sulla mozione del PD.